E ora è un vero piacere per me annunciare questo che sta per avvenire qui agli Stati Generali perché con un estratto del suo spettacolo perfetta, l'ultimo monologo scritto dal nostro autore talentuoso e amico del cuore Mattia Torre si è assegnata a parlare agli Stati Generali Geppi Cucciari Nella mia famiglia ci sono tre uomini e nessuno di loro è capace di fare niente per cui la mattina appena sveglia preparo la colazione e istruisco la collaboratrice domestica Carmen sulle cose da fare in casa e lei da ormai molti anni mi guarda sorridendo e sbattendosene completamente di quello che le dico mi dice se signora e dentro pensa col cazzo io la odio e comunque insieme la stimo perché guadagna esattamente quanto me cioè in pratica io le giro il mio stipendio solo evidentemente per conservare il privilegio di uscire da questa casa e andare a lavorare altrove e questo è uno di quei paradossi su cui è bene non soffermarsi altrimenti sfascio tutto partendo da casa mia e finendo con casa sua quando esco di casa mio marito sta ancora facendo colazione mio marito è una pianta un ornamento di casa se movente persino dotato di una sua grazia è anche un bell'uomo solo che la vita o più verosimilmente il lavoro l'hanno progressivamente svuotato non si può dire che sia infelice semplicemente non ha più bisogni non ha più desideri ha le sue abitudini le partite di campionato le passeggiate con il cane i suoi piatti di pasta sempre invariabilmente al sugo è un telescopio con cui la sera guarda le stelle cosa questa che comunque devo ammettere continuo a commuovermi la sua apatia me lo fa sembrare a tratti un essere moralmente superiore se io avesse un briciolo della sua serenità penso qualche volta forse sarei una persona migliore viceversa io sono una nevrotica ma forse forse perché ho un carico di responsabilità doveri e mansioni che gli non soltanto non si assume ma spesso addirittura ignora come se le cose si realizzassero da sé e degli assistesse imperturbabile a questo magico fenomeno del frigo sempre pieno delle lavatrici fatte della cena pronta per i ragazzi delle mille pratiche affrontate risolte persino del conto in banca ha cresciuto un po' mese dopo mese per lui questi sono fenomeni della natura come la pioggia come il vento a cui in ogni caso preferisce le stelle quando sei sposata e hai due figli non ricordi perché stai con tuo marito semplicemente non lo ricordi più forse un tempo ti ha corteggiato forse hai ceduto ma non sai dire perché con precisione non lo sai più dire impiegato pubblico nella televisione italiana mio marito non sa che lavoro fa semplicemente non lo sa vaga per quei corridoi anni 70 ogni tanto gli cambiano la stanza quasi neanche se ne accorge e dove sono stai qui ma bello qui e le mie cose quali cose non so avevo una penna si prego da questa parte accomodati e così nel tempo mio marito è diventato quella pianta che oggi è vive in un morbido qui e ora non sembra avere nessuna memoria del suo passato nessuna aspettativa sul futuro nessuna paura io credo neanche di morire perché per un uomo come mio marito che ha un impiego pubblico della televisione italiana l'aldilà è una prosecuzione del lavoro qualcuno la legge addirittura come una promozione infatti ai funerali dei lavoratori della televisione non piange nessuno perché il decesso è come l'ennesimo trasferimento e la frase ora sta in un posto migliore viene detta molto sinceramente da un punto di vista meramente sindacale anche fare dei figli è semplicemente una spinta impressa nel dna del lavoratore pubblico a dare continuità non alla specie ma all'azienda così è per sempre amen suo padre suo nonno lavoravano in tv e sempre nello stesso posto di lavoro e sempre rigorosamente con mansioni ignote a tutti e a loro stessi innanzitutto e prima del padre il padre del nonno e prima ancora il nonno e il nonno del nonno in una catena umana che risale a un tempo in cui la televisione neanche esisteva ma loro erano già lì fisicamente da generazioni nel campo nel terreno dove un giorno sarebbe poi sorto l'edificio principale della televisione italiana e da lì forse nasce la definizione di posto di lavoro perché era appunto un posto un campo un terreno dove al tempo pascolavano le pecore avevano greggi di pecore conducevano esistenze sagge e silenziose fatte di poche parole e pane caldo e così con la stessa postura con la stessa temperatura morale mio marito continua a recarsi al lavoro ogni giorno in realtà tutti cercano qualcosa siamo una società che vive una continua goffa disperata ricerca di una qualche salvezza di dimagrire di scopare di fare i soldi di fare pilates per stare meglio con se stessi qualcuno più tradizionalista e sentimentale ancora si aggrappa alla religione milioni di persone cercano solo di sopravvivere mio marito è una pianta ma mi piace come parla ed è emozionante come si appassiona le cose come gentile e preciso lui è l'unico che non cerca nulla ma io lo amo perché è gentile e la gentilezza è l'ultimo atto politico che ci è rimasto mi guarda sa che sto per entrare nella quarta e ultima fase del ciclo la premestruale fase dell'apocalisse è una sottile inquietudine gli segna il viso ci guardiamo complici e preoccupati nel cielo brilla la luna che questa settimana diventerà piena grazie 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 di essere venuta di corsa dal teatro Brancaccio dove hai rimesso in scena questo spettacolo perfetta splendido monologo di mattia torre amico del cuore e io volevo che tu stessi qui questa sera con noi perché non è stato un debutto facile tu hai rimesso in piedi lo spettacolo la prima volta dopo che mattia ci ha lasciato no e quindi insomma da amiche stiamo insieme come è stato ritrovare il pubblico beh è la prima volta a roma nella città di mattia nella città dove ho debuttato l'anno scorso con lui nel tra il pubblico e quindi fare questo spettacolo è una responsabilità ancora diversa adesso che mattia non c'è più perché il mondo ha perso un grande autore tante persone hanno perso un amico speciale una persona infinita a cui dire mille cose che non sai più a chi dire in realtà quella è la cosa principale quindi egoisticamente per noi per il pubblico perché per fortuna rimangono questi testi meravigliosi però chi ha scritto in realtà tutti lasciano delle cose del modo in cui hanno vissuto chi scrive lascia ciò che ha scritto credo che mattia possa continuare a vivere per sempre ascoltando quello che ha scritto leggendo quello che ha scritto c'è un audiolibro che raccoglie tutti questi spettacoli e mattia ha parlato di un tema così femminile così delicato ecco la cosa incredibile di questo spettacolo che adesso appunto è al brancaccio è che la prima volta che io l'ho letto che me l'ha mandato ma immagino te che te l'ha scritto proprio addosso per te anche questo abbastanza incredibile non potevo credere che un uomo no potesse entrare nella testa di una donna bing woman no in questo modo perché questo spettacolo parla del ciclo della donna il ciclo nel senso estensivo del termine il ciclo di 28 giorni che è diviso in quattro fasi in cui la donna ovviamente vive le cose che gli accadono intorno ma nella diversa in base alla fase del ciclo in cui è ed è strano che un uomo si cimenti in un tema così femminile in realtà credo che non esista una scrittura di genere esistono persone con una mente luminosa come ce l'aveva lui poteva parlare di qualsiasi cosa ha parlato del dolore degli ospedali e l'ha fatto in un modo unico lui poteva parlare di qualsiasi cosa l'ha fatto e io non so come esprimere il mio orgoglio di portare sul palco un testo che ha scritto Mattia grazie 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 grazie